Sintomi leggeri, morale alto e presidente al lavoro. È quanto all'indomani del tweet con cui Trump annunciava la sua positività al Covid insieme a quella della First Lady Melania, fa sapere la Casa Bianca che aggiunge. È stato sottoposto a un promettente trattamento sperimentale a base di anticorpi. Il presidente presenta dei sintomi leggeri. Quanto stiamo facendo è assicurarci non solo della sua buona salute e della sua sicurezza, ma anche di quelle di tutto il popolo americano. Il morale del presidente è alto e lui è pieno d'energia. Risultato negativo intanto, il contendente democratico alle presidenziali del 3 novembre Joe Biden ha subito parlato su Twitter di lezione da tenere a mente e invitato a indossare la mascherina a mantenere il distanziamento sociale e a lavarsi le mani. Se positività di Trump e quarantena che ha detto che osserverà la Casa Bianca mettono in dubbio la sua stessa partecipazione al prossimo confronto diretto del 15 ottobre, Biden ha invece mantenuto i suoi impegni di campagna volando in Michigan, stato chiave nella corsa alla presidenza quattro anni fa risultato fatale a Hillary Clinton. Sempre dalla Casa Bianca arrivano intanto rassicurazioni anche sulla negatività di alcuni dei più stretti collaboratori di Trump.